La campanella, non avevo mai visto una campanella, che sia di buon augurio a tutti questi ragazzi a Norcia, perché queste scuole siano il nostro messaggio di speranza per il loro futuro. Grazie agli amici di KPMG. Siamo qua, la classe dei bambini piccoli, realizzata grazie a tutti gli amici dipendenti KPMG che sono in Italia. Venite. Sono i piccolini. Ciao, ciao! Grazie a tutti.